Ma guardi, io sono davvero senza parole perché purtroppo in queste settimane ne ho viste tante, ne ho incontrati tanti di persone, di commercianti, di imprenditori, la situazione è veramente drammatica. Il problema è che dobbiamo fare presto e i tempi si stanno allungando per una soluzione più strutturale, io intendo. Poi ovviamente il tema del sollievo immediato, il ristoro a questo, il governo sta lavorando, ha già lavorato, sono stati stanziati, è stato ricordato, 66 miliardi, quindi insomma non è che non sia stato fatto, però adesso gli aumenti sono in continua scesa, ecco il problema è quello, noi dobbiamo trovare un modo di fermare questa scesa e quindi l'unico è fare un intervento più strutturale, proprio sulla formazione del prezzo del gas, che è quello che ha citato il ministro Cingolani, la proposta del governo italiano. Noi dobbiamo insistere su quello, siamo partiti che eravamo gli unici, gli unici in tutta Europa, gli unici tra 27 paesi, prima dell'estate ne avevamo con 20-15, adesso siamo a 20-22, dobbiamo veramente arrivare alla fine di questo processo e convincere tutti i membri dell'Unione Europea a fare un intervento strutturale per mettere un tetto al prezzo del gas che può avere varie forme, è tecnicamente molto complicato, ho sentito il ministro, è stato molto bravo anche nel cercare di spiegare i meccanismi che adesso si provano ad inserire nella trattativa, magari non proprio un tetto fisso ma una banda di ventilazione. Abbiamo chiesto al ministro, faccia conto di parlare a una scuola risca della terza media, ecco più si parla semplicemente più tutti quanti capiamo. Perché il tema è complicatissimo, esatto, esatto, e lui è stato molto bravo, però è effettivamente un tema complesso, si stanno cercando tutte le soluzioni che possano essere, come dire, fattibili, su cui si può avere un consenso politico di tutti gli stati membri, perché ci sono due paure, perché il problema dell'energia adesso è su due binari, uno è il tema del prezzo, di cui noi ora ci stiamo occupando, i costi, e l'altro però è anche il tema della quantità, perché ci sono paesi che hanno paura che se si mette un tetto poi i fornitori non te lo danno più.